100 euro su pendolino vincente ma quale pendolino oggi alla seconda corsa vince pokemon cavalladotto nel conte del blanco il bello della scommessa è che tu leggi annusi intuisci pensi ci ripensi dubiti ti illudi decidi te tocchi la palla e giochi e perdi ho giocato ai cavalli ai cani ai canguri ai canguri è uguale ai cavalli solo che invece di aurelia aurelia che stai a fare un distretto di polizia io un padre pio ma più poco tengo la busta con 2.500 euro vuoi veramente scappare tengo la busta generico mi interessa una mandragata cotta e bagnata la busta la portata e dove sta il telefono mi pareva che c'è un accento un pugliese lei ha perfettamente ragione ma non c'è pensare i sordi oggi a tortevalle fanno il botto la devi piantare e scommettare i cavalli vabbè capace proprio non c'è credo non sei capace scommetti ci sta a cascare coglione del ruppato e coglione del figlio dottor fioretti si vieni la ricevuta che il denaro l'ho già intascato io siccome c'è una riga adesso mi servo devo fare una super mandragata questo l'ho capito ma io le volevo sottolineare che non c'è una riga manco io ma io non c'è qualcosa così non c'è una riga non c'è una riga RNA sì non non Grazie a tutti.